Il conto alla rovescia per l'affidamento del cimitero ai privati inizia. Il 7 maggio dovrebbe essere firmata la convenzione al centro della polemica politica degli ultimi mesi. L'opposizione chiede la discussione in aula della questione. Palazzo di Città invece risponde Picche, sostenendo che tutto è andato in aula con l'amministrazione guidata da Orazio Ciliberti. Quello di questi ultimi giorni è l'ultimo atto dell'ente di Corso Garibaldi, prima della gestione del cimitero per mano dei lati con la Silvia SRL capofila. Il comune infatti sta costruendo 316 loculi, visto che ne sono disponibili soltanto 110 e l'emergenza non si placa. Non si sa nulla relativamente al costo degli stessi, al momento fermo a 1450 euro. Le associazioni scongiurano l'aumento del prezzo dei loculi. Voci di Corridoio parlano di 1600 euro per la concessione trentennale, ma la notizia è ufficiosa perché sul piede di guerra ci sono già gli operatori del settore pronti ad alzare la voce e venerdì l'amministrazione comunale incontrerà la Confcomercio per chiarire molti aspetti della privatizzazione del cimitero. Un altro neo di questa operazione è legato al personale in servizio al cimitero di Foggia. Si tratta di 12 persone che, afferma l'assessore Pellegrino, rimarranno impiegate al campo di via Manfredonia oppure troveranno altrove collocazione se l'accordo non dovesse andare in porto.